Robben Robben Che ti fai qui? Con incorrenza Perché con incorrenza? Eh no, ma io lo faccio ma tu, lei lo fa giornalista Eh beh, lei fa reporter tu videoreporter Ecco, fu la luce Fu la luce Prego, prego, venite a assaggiare vieni, vieni, fanno un'anzummata qua Un'anzummata nella pelle E' già stato saltato E' saltata di nuovo Chissà se esisterà la telecamera che riprende anche gli odori Fosse un'invenzione, no? La televisione che ti fa sentire anche gli odori L'anno scorso è la stessa cosa due volte è saltata la corrente e l'ho detto Mi spieghi una cosa strana? C'è lì, c'è lì